Ciao ragazzi bentornati al canale e siamo di nuovo con lei con questa Audi A6 che ho scoperto ragazzi che è una macchina che ha davvero riscosso un interesse pazzesco qua in Slovacchia perché praticamente è già venduta il problema è che seppure abbia accettato la mia proposta che era quella che avevo detto nel video relativo io non sono più sicuro di venderla a sta macchina semplicemente perché adesso nella situazione in cui siamo che è una situazione molto tesa le quotazioni delle auto usate si sono alzate ancora di più quindi ho scoperto non più tardi due giorni fa che quest'auto vale 3000 euro in più di quanto credessi che valesse qui in Slovacchia il problema è che questa macchina io avendo un centro detailing e questa macchina praticamente una volta venduta rimarrebbe nel paese ho vergogna a venderla semplicemente perché non per una questione di segni perché di segni ce ne sono tanti andremo a vederli ma per una questione di ologrammi come vi ho detto quest'auto è un'auto che è stata quasi completamente riverniciata ed è stata lucidata male come si fa spesso in carrozzeria per questioni anche di tempo la verniciatura è stata fatta molto bene ci sono un paio di spot con un po' di buccia ma non è niente di tragico non ci sono sporchine una verniciatura fatta davvero molto bene la lucidatura diciamo che lascia il tempo che trova io vendere sapendo poi la gente che io ho un centro detailing e io vendo una macchina piena completamente di ologrammi capite bene che la gente fa in fretta a fare uno più uno non tutti sanno che io faccia anche il commerciante di auto seppure mezzo paese abbia comprato auto da me resta il fatto che prima non avendo il centro detailing queste auto le preparavo tutte anche le più merdo macchine delle merdo macchine preparavo ora no quindi andiamo a vedere la situazione di partenza allora come vedete la macchina è strapiena di segni di swirls e tutte queste cose la cosa che fa impressione guardate già da qui gli ologrammi la macchina è tutta piena di ologrammi se cercassi se trovassi un'inquadratura da farveli vedere guardate questi riflessi li vedete è difficilissimo farvi vedere gli ologrammi eh però guardate bene cioè la macchina è tutta così capite bene che la gente farebbe in fretta ad associare che quest'auto è un'auto che ho lucidato io quando invece non l'ho lucidata adesso per risolvere una situazione del genere che non mi serve una correzione al 100% dei difetti far uscire una macchina da concorso sia se la macchina la terrò sia se la macchina non la terrò e la venderò semplicemente perché poi non avrei il tempo per prendermene cura a dovere per far sì che poi questa lucidatura fatta da dieci elode mi duri nel tempo perché io le mie macchine ragazzi sapeste come le lavo vi disiscrivereste dal canale fate quello che dico e non quello che faccio a volte non fate neanche quello che dico e la situazione per togliere questi ologrammi e togliamo anche un po' di graffi dai è una situazione di semplice risoluzione perché basterebbe tirare fuori una lucidatrice roto orbitale con un polish medio e un tampone medio e andare a lucidare avremmo risolto il problema ologrammi e avremmo tirato via qualche graffietto attenzione però al problema ologrammi questo non c'è scritto da nessuna guida nessun corso perlomeno io non l'ho mai sentito e magari c'è ma attenzione all'ologramma perché all'ologramma è sì vero che sia un problema di facilissima risoluzione semplice perché basta una lucidatura spesso anche solo con un finitore ci sono alcuni ologrammi che sono molto più bastardi ma molto più bastardi e non risolvete così perché in fase di taglio con la lucidatrice rotativa a volte si va a scaldare talmente tanto il supporto che l'ologramma non rimane solo superficiale ma se tu lucidi la macchina e togli quegli ologrammi a me è successo ragazzi non vi dico cazzate minimo dieci volte di togliere gli ologrammi mettere fuori la macchina al sole e dopo una settimana guardo la macchina ha ancora non tutti ma ancora alcuni ologrammi quindi raga occhio quando si lucida su un ologramma non fate due passatine oh che bello sì l'ho tolto no l'ho tolto un cazzo o almeno magari sì perché erano ologrammi leggeri adesso in virtù di ciò io non devo fare la cosa che sarebbe più logica e conveniente ma io devo fare quello che voi volete vedere e so che non vorreste mai vedere un nasello lucidare fare un one step con un aerotorbitale perché vi cadrebbero le pelotas quindi ragazzi cosa andiamo a fare? andiamo a fare una sfida anche per me perché onestamente è una cosa che non ho mai fatto mai un one step di rotativa e tra l'altro un one step con la signora maesta delle rotative una classe 2013 taxi giallo perché ragazzi c'è fake taxi quello dei film un po' zozzi e poi c'è real taxi giallo che è una bomba atomica nucleare questa lucidatrice ragazzi è una lucidatrice del 1932 è una delle prime seppure questa non sia una proprio delle primissime The Vault taxi giallo c'era una versione ancora più vecchia ancora più pesante agli inizi di tutto le rotorbitali non c'erano o perlomeno c'erano ma facevano schifo quindi i primi tanti anni fa The Taylor dovevano usare solo le rotative e le rotative all'epoca non è che ce ne fossero chissà quante c'era la Makita storica mitica la lucidatrice preferita in segreto da The Pipe che dice che la sua preferita è la Festool ma è la Makita io lo so confessati poi c'era c'erano le lucidatrici Rupes e poi c'era in America spopolava il mitico taxi giallo poi sono arrivate le Festool sono arrivate le Flex è una lucidatrice molto fisica è una lucidatrice pesantissima ha un motore praticamente che è un V8 supercharged è l'unica lucidatrice al mondo che arriva a 3600 giri che non so per quale motivo perché a 3600 giri penso che fai anche un buco dentro un cofano ma è una macchina pazzesca perché tutta questa pesantezza in fase di lucidatura di superfici piane così come con la Makita la AEG c'era anche e ti dà una grossa mano sui pannelli invece come le porte con le robe lì ragazzi devi avere i muscoli cosa che il nasello non c'ha ma per voi ci proverò ragazzi non la uso questa lucidatrice da perlomeno 5 anni quindi andiamo a vedere come fare un po' di show ottenendo però un risultato che sia un risultato degno perché non c'ho mica voglia di fare figure di merda ragazzi mi daranno tutti del pazzo per questa soluzione ovviamente voi in una situazione del genere usate la testa usate la testa fate piuttosto un one step con una roto orbitale con un polish medio e una e un tampone medio scusatemi che mi stavo già impappinando qui ragazzi andremo a fare rotativa solo rotativa con un polish medio userò le ale e un tampone rupes giallo specifico per rotativa adesso mi cade tutto che ha un tampone praticamente morbido quindi su cosa potrò giocarmela allora sulla velocità e sulla pressione non mi rimane altro perché utilizzerò una pasta un polish medio che non avrà la capacità aggressiva sul graffio che ha audace un one step con audace con la rotativa è impossibile ragazzi però così potrei farcela sono curioso anch'io un esperimento facciamo insieme io sono un matto altro problema l'auto è completamente quasi quasi completamente riverniciata non so che trasparente abbiano usato se avessero utilizzato anche qui un trasparente originale audi glass rate quello di fascia premium io credo che quasi sicuramente con questa combinazione non faremo nulla dovrò cambiarla staremo a vedere non lo so se invece fosse stato utilizzato un trasparente normale da carrozzeria che non è così di piombo fuso com'è il glass rate secondo me ce la facciamo dai andiamo a provare andiamo a fare un altro esperimento con questo vecchissimo tampone medio bugnato che avrà dieci dieci anni penso ce l'ho solo da sei non ce l'ho da cinque quindi cambierò anche il platurello andiamo a provare con questo tampone che è sicuramente molto più duro del tampone rupes giallo e vediamo se riusciamo ad avere un risultato di taglio migliore e non troppa perdita di finitura anche qua ragazzi la prima volta da far primer bisogna usare più prodotto che è sicuro è sicuro sempre a 1.400 tiri scendiamo a 1.200 sto applicando una leggera pressione in questo momento scendiamo a 1.000 mollo la pressione facciamo scivolare la lucidatrice scendiamo ancora e giù al minimo per i 100 giri vediamo in questo momento noi abbiamo creato più calore seppure comunque con una combinazione aspetta che mi piego bene sto sta microfibra perché se no così non andiamo da nessuna parte abbiamo creato un po' più di calore perché comunque abbiamo usato un tampone più più duro non era un tampone morbido un tampone medio duro ho fatto anche un pelino di pressione nella fase di taglio e ho tagliato molto di più allora andiamo a vedere un attimo la situazione allora situazione ologrammi non c'è finitura spostiamoci facendo anche qua qua la finitura vedete che è inferiore guarda vedi che c'è questo alone questo Haze si chiama non è un ologramma potrebbe essere un riflesso della luce guardate assomiglia ad un ologramma ma l'ologramma lo vedete in questo modo qua è pulita la situazione ma abbiamo una finitura peggiore però a livello di eliminazione del difetto siamo molto più messi bene qui aspetta che vedo se riesco a mettere una lampada un po' più bassa ecco qua siamo molto più puliti sui difetti finitura è migliore questa e il one step ragazzi con la rotativa è una cosa abbastanza stupida arcaica e senza senso detto sinceramente però diciamo che non posso sempre farvi vedere quello che è giusto fare devo farvi anche vedere un po' di roba che vi fa divertire e come procedere adesso comunque buona la brillantezza vediamo se riesco a cercarvi un'esposizione manuale con la telecamera non so come si faccia perdonatemi adesso ci provo vi apro l'esposizione spostiamoci di qui vedete che a livello di difetti qua siamo molto più puliti guarda se io ti faccio le cose così sono proprio un detainerone ma non sono capace di usare le telecamere ragazzi non sono capace andiamo come meno difetti e un pelo di più di finitura o anche questa secondo me anche questa è buona andiamo a vederla al sole allora ragazzi vedete viste da fuori sono belle tutte e due ma se vi devo dire la verità si questa con meno difetti seppure vista con le scangri abbia una finitura peggiore è più bella dal vivo comunque ragazzi ha vinto questa a mani basse questa continuiamo bene allora abbiamo la via da seguire adesso ho da provare un'altra tecnica che è una tecnica che ho visto usare da Apex che è un detainer molto famoso voi vedete che sto usando un bel po' di polish ma con la lucidatrice rotativa ragazzi ahimè hai un molto minore consumo di tamponi rispetto alla lucidatrice cero torbitale ma il il prezzo da pagare è un utilizzo di più pasta quando devi tagliare quando devi rifinire invece assolutamente no però qua dobbiamo fare entrambi questa tecnica ragazzi non l'ho mai usata in vita mia sono veramente curioso di provarla era da tanto che lo volevo fare lo fa Apex che è bello famoso e ha detta sua con la rotativa così è meglio non lo so adesso ve lo dico non lo so 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 a presto valori non ne abbiamo a livello di taglio non è che sia il massimo della vita ma adesso voglio riprovare su quest'area di acente non con la tecnica di Apex ma con la tecnica normale perché non è che se una roba la dice uno su YouTube debba essere Vangelo compreso quello che vi dico io ragazzi magari vi dico un sacco di stronzate però almeno vi faccio un po' ridere non è male non è davvero male vado a fare tutto il mezzo cofano poi tiriamo via lo scotch e vi faccio vedere e vi faccio vedere